buongiorno benvenuti ad una nuova video recensione oggi sono in compagnia di camilla questa simpatica popazzona e di alcuni dei suoi libri e dalla sua libreria appunto scelto questo testo che si chiama pulcino scritto da chiara de fernex edito da albe edizioni pulcino narra la storia di una mamma a chioccia e del suo pulcino un giorno pulcino vede degli uccelli volare e chiede alla sua mamma di insegnarle a volare ma la mamma non riesce perché non sa volare non può insegnarglielo e così pulcino tutto arrabbiato va via e va in giro per il mondo a fare delle fantastiche avventure conosce mondi straordinari degli altri animali ammire il cielo pieno di uccelli tutto sembra andar bene ma un certo punto arriva un gran temporale arriva un gran temporale e lui ha molta paura non sa cosa fare come fare per potersi riparare allora chiede alla famiglia degli anatroccoli se può stare con loro ma loro non possono chiede a un merlo ma anche il merlo non può deve tornare a casa chiede a una civetta ma la civetta ha il tronco già pieno ci sono i suoi piccolini chiede ad altri animali ma niente così resta solo e si nasconde tra alcune pietre a un certo punto però sente qualcuno che lo chiama pulcino pulcino ed è la voce della sua mamma la mamma arriva e lo protegge dalla pioggia con la sua ala la stessa ala che non era adatta per volare è adatta per proteggerlo dalla pioggia ed è proprio questo il significato il cuore di questo testo è proprio il limite una mamma che non può insegnarli a volare ma può proteggerlo quindi il limite che noi mamme a volte abbiamo non siamo perfette non possiamo insegnare tutto non possiamo dare tutto ma le cose fondamentali ci sono quindi mi sembra un messaggio molto bello è passato in modo molto semplice con un testo molto leggibile facilmente comprensibile anche per bambini molto piccoli anche a partire da due anni io vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima